Rappresentanti della Fondazione per lo Studio e la Documentazione delle Società di Mutuo Soccorso Piemontesi sono stati ricevuti il 25 settembre in Consiglio regionale dal Presidente Valerio Cattaneo e dal Vice Presidente Roberto Placido, in un'audizione cui hanno partecipato anche numerosi consiglieri di diversi gruppi. Le Società di Mutuo Soccorso, realtà basate sul volontariato, chiedono chiarimenti sui finanziamenti promessi.